Un viaggio che apre il cuore, la viva voce dei protagonisti di una storia di impegno sociale e voglia di riscatto, sofferenza e speranza in una terra affascinante e ricca di contrasti. In occasione dei dieci anni del centro diurno a Casa Pollicino, nella città rumena di Petrosciani, Telebelluno ha realizzato un documentario che andrà in onda all'interno della trasmissione TICVA, un tentativo di raccontare l'altra faccia dell'Europa, quella in cui il diritto all'infanzia fatica a farsi spazio nelle sacche di povertà e disagio sociale.